Il presidente Occhiuto dice tolleranza zero. È il momento della responsabilità. Io sarò il sindaco di tutti. Nicola Fiorita ha proclamato sindaco di Catanzaro. Passaggio delle consegne con Sergio Abramo. Da oggi molte per esercente artigiane e professionisti che non accettano il pagamento tramite il POS. Una festa davvero divertente nel segno dell'estate a Montauro nel Catanzarese. Nei giorni scorsi il Mat Festival in acqua 500. Matarassini e tanti VIP. Infine lo sport calcio riscatto, umiltà, ambizione. Le parole del direttore generale dell'FC Crotone Raffaele Vrenna incontrando oggi i giornalisti. Giovedì 30 giugno 2022. Ben trovati sul canale 15 in tutta la Calabria. Il segnale di esperia. TV in apertura. La campagna antincendio messa in campo dalla regione Calabria con uomini, mezzi e attrezzature anche con nuove tecnologie. Vediamo. Apparecchiature come droni e fototrappole, uomini e mezzi della forestale, forze dell'ordine e associazioni di volontariato che saranno premiate per l'efficacia dell'azione di prevenzione. Ci sarà anche il supporto di altre regioni come Piemonte e Lombardia. Punta su queste basi il piano antincendi della regione Calabria presentato dal governatore Roberto Chiuto e dall'assessore regionale alla forestazione Gianluca Gallo. Toleranza zero e pugno duro. Questa è la linea del governo regionale per evitare il disastro dell'anno scorso. Abbiamo mutuato un percorso già sperimentato non da un uomo di centrodestra ma da un uomo di sinistra. Si chiama Perna e qualche anno fa diresse il parco della Spromonte. Assegnò il parco della Spromonte ad associazioni di volontariato e decise di pagarli soprattutto in ragione del diminuito numero degli ingenti. Le 80 associazioni di protezione civile che saranno coinvolte avranno gran parte della loro retribuzione parametrata al minor numero di ingenti rispetto alla media degli anni passati. Dal canto suo l'assessore alla forestazione Gianluca Gallo si è soffermato sull'ingente investimento economico previsto anche per evitare il disastro del 2021. L'anno scorso abbiamo vissuto un anno sorribile, un attacco senza precedenti fino a 280 incendi in una giornata con 50 incendi addirittura applicati alle 9 di mattina. Speriamo che quest'anno ci sia naturalmente buon senso, che ci sia anche da parte della popolazione un intervento in termini sociali perché noi chiediamo anche ai calabresi attraverso questa azione di grande prevenzione un'azione di coinvolgimento sociale per prevenire innanzitutto gli incendi e poi abbiamo organizzato una rete di interventi più efficiente. In ogni caso è chiaro e sarà difficile resistere ad attacchi come quello dell'anno scorso, ma ci stiamo predisponendo sicuramente per fare meglio rispetto allo scorso anno. A proposito di Regione, la Giunta regionale ha approvato una delibera con cui viene attuata una legge approvata dal Consiglio attraverso la quale si autorizza fin calabra entrare nel capitale sociale di terme sibarite, di ricapitalizzarla e di permettere alla società di sottoscrivere con la Sateca un contratto di fitto d'azienda per il controllo e la gestione delle terme luigiane. L'Assemblea dei Socii di Sateca ha accettato l'offerta della Regione. Il timing proposto dal Governo regionale si potrà dunque procedere nella direzione indicata di recente dal Presidente Occhiuto. Le terme luigiane al momento ancora chiuse con un contenzioso aperto tra comuni e società private e con il serio rischio che non potessero più riaprire potranno ospitare nuovamente ospiti e turisti entro la fine di luglio. E poi c'è il Covid. Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 1.990 nuovi casi. Ci sono tre decessi. Il tasso di positività è ancora alto, al 31,2% sul fronte ospedaliero. Si registrano tre nuovi pazienti in più nei reparti ordinari. Nessun nuovo ingresso, fortunatamente, nella terapia intensiva. A 611 le persone che risultano guarite o dimesse. La pagina politica Nicola Fiorita. Da oggi il nuovo sindaco è stato proclamato questa mattina. Sarò il sindaco di tutti, dice, anche perché è il momento della responsabilità. Passaggio di consegna con il sindaco uscente Sergio Abramo e fascia tricolore sul petto. Questi i primi passi di Nicola Fiorita nelle vesti di primo cittadino della città capologo di Regione. La cerimonia di insediamento e la proclamazione. Da rilevare le parole di Fiorita, il ricordo sentito del Papa Franco che fu già sindaco, il saluto alla mamma Mariella, la moglie Maura e la figlia Bianca. In più il riconoscimento di Sergio Abramo nel ruolo senza pari avuto per la città. Dopo quattro mandati, la completa disponibilità manifestata. Un breve discorso e poi le parole del sindaco della città capologo. Un pochino di emozione c'è, ovviamente, perché inizia una nuova fase della città, inizia una nuova fase anche della mia vita. Quello che possiamo dire è che al di là dell'emozione, noi abbiamo fatto un grande insistere sul rinnovamento e sul cambiamento. Questo sarà ovviamente il nostro obiettivo, ma non siamo certo qua per distruggere tutto quello che è stato fatto. Quindi io, subito dopo la proclamazione, incontrerò, ho chiesto, ed è stato, ho avuto subito la disponibilità del sindaco Abramo per incontrarlo, per fare una ricognizione delle pratiche, dei fascicoli, dei processi, dei progetti che sono in corso. Da oggi il mio obiettivo è quello di essere il sindaco di tutti, quindi è il momento anche della responsabilità. Ho molto apprezzato alcune dichiarazioni che ho letto in questi giorni, da parte del Presidente Mancuso, da parte del Professore Donato, e credo che sia interesse e intenzione di tutti lavorare per dare le risposte che questa città chiede e chiede in maniera pressante. Calabrese d'origine, Antonella Polimeni, rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, è diventata cittadina onoraria di Soverato. Considero questo un riconoscimento a un percorso di carriera, ma anche alle mie origini, a cui tengo moltissimo. Antonella Polimeni, rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, calabrese originaria della Locride, è diventata cittadina onoraria di Soverato. Il sindaco Daniele Vacca e il vice sindaco Emanuele Amoruso le hanno conferito l'onorificenza nel corso di una partecipata cerimonia a conclusione del convegno su donne e scienza. L'aula del Consiglio Comunale di Soverato era strapiena. Il sindaco ed il vice hanno elencato le numerose motivazioni che sono la base della cittadinanza onoraria concessa e si sono augurati di avere ospite nel comune la rettrice almeno una volta all'anno per poter programmare con lei una serie di iniziative culturali e scientifiche che renderanno la città di Soverato un punto di riferimento della costa ionica. L'iniziativa che la Biblioteca delle Donne ha voluto intraprendere con la proposta e poi è stata accolta dal Consiglio Comunale di questa cittadinanza onoraria in realtà è un segno importante rispetto a quello che deve essere un obiettivo che ormai è chiaro anche nel piano di Next Generation U, come l'obiettivo della parità di genere, come un obiettivo fondamentale per raggiungere anche un miglioramento a livello economico. La Polimeni, di padre calabrese, di locri geracee e di mamma romagnola, porta nel suo DNA i geni dell'antica splendida civiltà della Magna Grecia. Rettrice dell'Università La Sapienza di Roma dal 1 dicembre 2020, Antonella Polimeni si è laureata in medicina a Roma nel 1987. Ordinario di Odontoiatria a Roma, è stata preside della Facoltà di Odontoiatria, nonché presidente della Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea in Odontoiatria. La Sapienza con i suoi 122.000 studenti, 4.000 docenti, altrettanto personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, certo potrebbe essere assimilata a un piccolo centro. Spoltiamo pagina da oggi, 30 giugno, sono scattate le multe per commercianti, artigiani o professionisti che non avranno un POS, il sistema per accettare i pagamenti con bancomat o carte di credito. Scattano le multe per commercianti, artigiani e professionisti che non avranno un POS, il sistema per accettare i pagamenti con bancomat o carte di credito, o che non consentiranno ai propri clienti di pagare attraverso queste modalità elettroniche. Lo prevede l'ultimo decreto PNRR che stabilisce così le sanzioni per chi non si adegua alle nuove norme, anticipando di sei mesi la data di entrata in vigore delle regole inizialmente previste. L'obiettivo del Governo è di accelerare contro l'evasione piscale, favorendo l'utilizzo di pagamenti automaticamente tracciabili per i negozianti e gli artigiani, ma anche per i professionisti. Nella misura rientrano gli artigiani, come falegnami, fabbri e idraulici, i ristoratori e i baristi, i negozianti e gli ambulanti, ma anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti. Le sanzioni partono da una base di 30 euro per ogni transazione rifiutata. Rispetto a una spesa di 100 euro la sanzione sarà di 34 euro, mentre rispetto a una spesa negata dal commerciante di 1000 euro la sanzione sarà di 70 euro. Misura accolta con soddisfazione dalle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, che però sollevano alcune perplessità. Da una parte si schierano per un abbassamento delle commissioni sulle transazioni, a vantaggio degli esercenti e dei professionisti, e dall'altra lanciano l'allarme sulle possibili scappatoie che questi potrebbero trovare per evitare di accettare i pagamenti elettronici. Tra questi l'impossibilità tecnica, quindi il fatto di avere il dispositivo post-temporaneamente fuori uso, o la scelta di abilitare il terminale a un solo circuito, costringendo così ai contanti tutti gli utenti che hanno carte di gestori diversi. L'estradizione in Italia del boss d'Indrangheta Rocco Morabito, 56 anni considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, è stata sospesa in Brasile per l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti, presentato a San Paolo. Il 24 giugno scorso la Corte Suprema aveva respinto l'ultimo ricorso dei legali di Morabito, la giudice del Massimo Tribunale aveva disposto l'estradizione in Italia entro un mese, ma il 27 giugno la Polizia Federale ha invece comunicato la presenza di un mandato d'arresto provvisorio, questo ha spinto Santini a bloccare l'estradizione per l'appunto di Rocco Morabito. Una lettera con 4.000 firme è stata consegnata al procuratore antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, dagli studenti di Crotone. 4.000 firme, 4.000 pugni stretti con la penna, come una ideale protezione a Nicola Gratteri dopo le minacce dell'Andrangheta. Le hanno raccolte la consulta provinciale degli studenti di Crotone, che ha invitato il capo della DDA di Catanzaro a presenziare e ricevere la lettera con le 4.000 firme. E il magistrato, tra i più famosi d'Italia, non si è fatto pregare, ha sfidato il caldo africano e si è concesso a coloro che rappresentano il futuro di questa martoriata regione. Un momento di incontro e confronto improntato sul concetto di illegalità, ma anche per ribadire da che parte stare. Fa tanto piacere ormai parlare dell'incontro della consulta degli studenti con Gratteri non come una novità assoluta, in quanto con lui abbiamo stabilito un rapporto solido, in quanto noi vogliamo comunque manifestare sempre più la nostra solidarietà, ma soprattutto manifestare l'impegno che noi mettiamo a seguito alle sue parole che ci dà quotidianamente e ogni volta che facciamo un incontro. Quindi l'incontro di oggi è sostanzialmente per ufficializzare quello che è stato, quello che è, continua ad essere il nostro supporto nei suoi confronti attraverso la consegna ufficiale delle 4.000 firme di 4.000 studenti che hanno dedicato il proprio minuto, hanno dedicato il proprio pensiero a firmare quel foglio che è girato per tutte le classi di tutta la provincia di Crotone. È stato molto bello ascoltare questi ragazzi, mi ha dato conforto, ossigeno. Mi ha veramente aiutato stasera questo incontro con i ragazzi perché intanto ho apprezzato la loro intelligenza e maturità. Hanno detto delle cose importanti e profonde che non sento dire da adulti che magari hanno posti importanti, che occupano posti importanti. E io li ho ringraziati rivolgendomi a chi in questo momento amministra, a chi in questo momento gestisce la cosa pubblica e organizza il futuro di questi ragazzi. E cioè ho detto facciamo programmazione, facciamo infrastrutture ma soprattutto creiamo delle scuole che servono per il futuro di questi ragazzi, per impedire che questi ragazzi siano costretti ad emigrare. Creiamo più scuole per il turismo, più scuole di agraria, università di agraria come c'è a Reggio Calabria perché purtroppo c'è uno squilibrio perché ci sono tre facoltà di giurisprudenza in Calabria per un milione e novecento mila abitanti e questo vuol dire produrre mediamente 300 laureati al mese e questo per il futuro è preoccupante rispetto ai bisogni e rispetto alla propensione naturale della Calabria. Avrebbe minacciato di morte, picchiato selvaggiamente in più occasioni procurandole anche delle lesioni l'attuale ex compagna nel corso di una relazione durata circa nove anni terminato ormai da quattro anni. Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dagli agenti del commissariato di Catanzaro. L'idola condotta violenta dell'uomo secondo quanto emerso dalle indagini dei poliziotti sarebbe proseguita anche dopo la decisione della donna di interrompere la decisione messa in atto da circa quattro anni. Ennesimo sbarco di migranti pensate il quarto nel giro di poco più di tre giorni nel porto di Locella Ionica a conclusione di un'operazione di succorso sono giunti 39 profughi di varie nazionalità tutti di sesso maschile prima di essere intercettati, trasbordati e giungere quindi nel porto della cittadina Ionica a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera i migranti si trovavano su una barca di legno alla deriva a circa 90 miglia di distanza dalla costa calabrese. Rimaniamo nel Regino andiamo a Reggio Calabria ci occupiamo di bontà di eccellenza La Calabria al momento è la regione più attenzionata nel mondo enogastronomico e turistico al Piro Piro di Reggio Calabria si sono dati appuntamento produttori, imprenditori, giornalisti per raccontare esperienze di positività e qualità calabriando il nome dell'iniziativa che ha raccolto consensi e partecipazione tutti si sono incontrati ed hanno raccontato la loro straordinaria realtà attori brillanti nel mondo enogastronomico una serata caratterizzata da positività e coesione il tutto per incentivare una comunicazione propositiva sinergica, virtuosa della Calabria un evento unico la cui riuscita si deve in primo luogo al direttore Domenico Bellantonio e a Laura Saraceno che guidano uno dei ridi più belli sul lungomare più bello d'Italia un palcoscenico a fior d'acqua sul quale hanno danzato i piatti preparati a quattro mani dallo chef resident Marco Maltese e lo special guest chef Claudio Vicina ospite esterno Stella Michelin del ristorante piemontese Casavicina la cui partecipazione è stata in collaborazione con Velier azienda leader nel mondo del bere di qualità presente con Gil Grigliatti e Mimmo Lombardo la serata è stata coordinata da Giovanna Pizzi sommelier e giornalista enogastronomica e dal giornalista Francesco Mannarino un talk show al quale hanno partecipato aziende che sono esempi di qualità e che hanno definito la storia e disegnano il presente e il futuro del comparto enogastronomico e agroalimentare calabrese per descrivere la crescita delle aziende è intervenuto Nini Tramontana presidente di Union Camere Calabria ma anche della Camera di Commercio di Reggio giornalisti nazionali e locali per la prima volta hanno avuto modo di esprimersi e raccontare il mondo dell'informazione legato alla terra calabrese ed ora andiamo a Montauro che per quattro giorni ha ospitato il Mat Festival 500 Materassini in gara nel Golfo di Squillace 500 partecipanti per quattro giorni hanno gareggiato su gonfiabili di ogni forma e colore nelle acque dello Ionio Calabrese per la terza edizione del Mat Festival una kermesse originale e unica che celebra uno dei simboli dell'estate il Materassino da mare l'iniziativa si è tenuta a Montauro in provincia di Catanzaro dai classici cigni e paperette agli stravaganti donut oppure agli italianissimi spicchi di pizza il Mat Festival è una vera e propria gara di nuoto con i Materassini alcuni con delle forme decisamente improponibili i partecipanti suddivisi in diverse categorie dai 16 ai 65 anni hanno gareggiato in quella che gli organizzatori hanno ribattezzato l'Olimpiade estiva non sono mancati i volti noti dello spettacolo, dello sport e della televisione Fabrizio Corona, Asciadia Rodriguez Alessandro Basciano, Antonella Fiordelisi madrina dell'evento, Valeria Marini accompagnata da uno dei personaggi del momento il tiktoker catanzarese Saverio Riccelli ecco muiamo come siete i biedi, grandi ragazzi ho trovato dei posti veramente incredibili è una terra che non ti immagini ma che per l'estate, per le vacanze potrebbe essere veramente un punto di riferimento anche per tante persone internazionali è un posto pazzesco, la gente sempre ottima la fritturina ci sta pure con 40 gradi che fai, te ne privi? e no che non te ne privi devo dire, io non so nuotare ma è stata veramente una cosa emozionante anzi soprattutto grazie al bagnino che è stato con me tutto il tempo a premiare i vincitori l'assessore al turismo della regione Calabria Fausto Orso Marso Ottima giornata, un oiono fantastico girò tutti gli eventi questi eventi sportivi, agonistici non professionistici che servono ad avere una stagione che viene anticipata o viene allungata questo è uno degli eventi di giugno ce ne saranno altri 14 credo sono un baderato a settembre Ed ora lo sport oggi ha parlato il DG il direttore generale dell'FC Crotone Raffaele Vrenna ha incontrato i giornalisti ha parlato di riscatto, umiltà ma anche di ambizione c'era per noi Luigi Saporito Riecco allora Raffaele Vrenna per lui ancora un posto di responsabilità in Casa Crotone si è presentato da solo e ha risposto a una sequela di domande da parte dei giornalisti ma con le idee chiare e precise il riscatto dopo due stagioni da dimenticare l'umiltà perché senza non si va da nessuna parte ma soprattutto l'ambizione di una società che nell'anno del centenario e della sua storia ancora voglia riscrivere un capitolo importante per questa città Direttore bentornato nel Crotone Calcio un'ora di conferenza stampa avete toccato tutti i punti ma soprattutto è venuto fuori il grande entusiasmo e la grande ambizione di questo nuovo Crotone Sì, come ho detto già in conferenza l'ambizione è la parola chiave l'umiltà quindi già detto abbiamo tanta voglia di metterci in gioco tutti quanti io per primo lavoreremo per questo come stiamo già lavorando da mesi per consegnare all'allenatore la squadra il prima possibile prima del ritiro prima del 15 luglio quindi stiamo lavorando tutti i giorni per questo avete promesso un cambio di passo sostanziale anche nella comunicazione nella visibilità soprattutto un appello alla tifoseria Sì, la comunicazione sarà fondamentale sotto tutti i punti di vista sia social che non comunicheremo di più anche con la stampa perché non lasceremo lacune mai non lasceremo parole dette al caso mai quindi anche perché questo aiuta la tifoseria a far capire il nostro operato è quello che siamo quindi sicuramente questa sarà la nostra prerogativa quest'anno col mare dei vuoti che magari sono stati dovuti a risultati spiacevoli Come si dice il bel tempo si vede dal mattino Branduani il portiere Chiricò e il prolungamento con Golemici insomma sono tre punti fondamentali che la dicono tutta su quello che sarà questa nuova stagione Sì, abbiamo abbiamo scelto abbiamo ci siamo previsati degli obiettivi e li stiamo raggiungendo con con celerità quindi devo dire anche cercando di dibattere la concorrenza sul sul nascere continueremo così speriamo di farlo prima possibile perché è un lavoro fatto di ansia quindi perché vogliamo vogliamo cercare di raggiungere gli obiettivi prima possibile per poter poi non guardarci indietro senza rammarichi Ed ora il meteo Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo giornata di venerdì con una perturbazione che lambira i settori alpini difatti la perturbazione la ritroveremo più corposa sui settori altralpe ma appunto lambirà anche parte del nord con qualche temporale al centro sud invece sempre dominio in contrastato dell'alta pressione africana andiamo a vedere nel dettaglio quello che succederà con questi scrosci di pioggia che interesseranno alpi e prealpi in parziale interessamento durante il pomeriggio anche ai settori pedemontani della Lombardia le medio-alte pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ecco la grafica in sintesi con dei temporali su alpi prealpi alta Lombardia parte della pianura Veneta e Friulana altrove invece al centro sud sole e caldo in intensificazione torneremo a toccare i 35-36 gradi su molte zone interne appunto delle regioni centro-meridionali dettagli ulteriori approfondimenti vi trovate scaricando l'app di Trevi Meteo è tutto grazie per l'attenzione ci vediamo più tardi grazie a tutti